Devi lanciare? Lancia, lancia, vai, vai! Nooo! Ferma, vai vicino! Ha speso tutto! Ma mamma culo! Con questa canna puoi pescare le farfalle, però devi avere un culo della madonna! Esatto, tieni! A te è l'onore! Grazie! Tasto destro, aspetta, 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 aspetta! Puntalo, puntalo, puntalo! No, 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 giù, giù! Le prende al volo! Non c'entrano quelle! Puntalo! Allora, vedi in alto? Vedi in alto la cupola? C'è un buco al centro, giusto? Per uscire fuori? Sì, sì! Ok, miralo! Sì, sicuro! Però non dal centro, devi andare in un lato! Vieni qua, per esempio, qui sono io! Aspetta che ti seguo! Ok! Da qua! Noi stiamo ai lati! Raga, vediamo chi cade alla farfalla! Se la prende! Vado eh! Vai! Devo tenere premuto o lancio e basta! Devi lanciare! Sì, sì! Vai, vai! Ferma! Vai vicino! Ha speso tutto! Ma mamma culo! Che vedi? VText! Non è che cosa è vero! Secondo me è quello! Quando mangi succede? 13 me ne è rimasti! succede quando mangi ci sono dei ragni che si stanno accoppiando domani e lo so che mangi però vedi però credi che stanno la stessa cosa due però perché anni non succede secondo me c'è una qualche malattia vita si ma che fa corri piano ti muovi piano che fa piano piano dicono di capire chip ma provocire rientrare pira che si è buggato per mino comunque se volete c'è la questo è un bug veramente ancora ancora si guarda non ho capito ho capito chip aspetta ma spazio no 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 ho capito alla paese opzioni non video ma non è che c'è nel giro io mai su video setting opzioni ecco metti grafic fast infatti le devi levare sono le particelle che ti fanno a modarsi può darsi infatti il pacchetto l'ho solte ma adesso infatti va bene allora ora no che non ce l'hai più ok a posto grazie bravo chip ottimo comunque piano piano che ci moriamo 30 30 panini dove li stai mangiandoci qui nell'orto e no dove scende ma che cazzo di panini preso poi non solo per i normali pirla e vedi sono quelli che ti fanno male mangiarli troppi fa male e prova a correre adesso pirla vedi hai capito ecco visto adesso per esempio hai spavonato slogan eh vedi grazie al cacchio mangi i panini mangi scusano ma allora ragazzi mi viene fuori guarda no vi giuro guarda vi faccio pure lo screen guarda uno screen che ora scriviamo su google e magari un bug guarda qualcuno c'è un piatto lo sapere veramente in chat sa come risolvere questo guardate e ho capito guardate provare a chiudere e riaprire il launcher eh si 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 può essere chip può essere chip no 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 questo infatti prima te lo ricordi che lo dicevo anch'io chip ti ho detto prima ragazzi vado lento anch'io aspetta morendo io ho riavviato il launcher ed è passato mi fa male la pancia ma il launcher è riavviato beh sarà affottinato in amore beh sicuramente dispariscono chip se dice ancora abbiamo il problema chip non abbiamo capito ma baffanculo ma baffanculo